E' la 31enne Sonia Candy il colpo della Megabox Vallefoglia per il ruolo di centrale nel prossimo campionato di Serie A1 di volley femminile. 1,87m la Candy è stata presentata oggi dalla società bianco-verde nella sede della compagnia partner Nethesis. Atleta di conclamata esperienza, Sonia Candy è divenuta poche settimane fa vicecampionessa d'Europa con l'Allianz Milano ed è reduce dalla finale Scudetto 2023. Pallavolista da nove stagioni in Serie A1 anche con Firenze Cugno dove ha lavorato con coach Pistola che ora ritrova Vallefoglia. Io ho giocato due anni con lui, mi sono trovata molto bene, il suo lavoro mi è piaciuto e sono riuscita a esprimere un buon gioco con lui e quindi anche questo sicuramente è un tassello molto importante, conosco già un po' il suo lavoro e per cui ricominciare mi dà sicuramente tanto stimolo. È una centrale molto completa, sa fare tutto in attacco quindi non è specializzata solo come spesso capita sugli attacchi davanti 1,7 o sulla fast ma lei è brava ed è completa a fare un po' tutto, batte molto bene che è un'altra caratteristica che non è sempre peculiare dei centrali, lei invece lo fa molto bene, è una giocatrice completa anche in difesa è una grintosa ed è un atleta a 360 gradi che come dicevo anche prima con il lavoro ha raggiunto dei grandissimi risultati, è ancora giovane e quindi noi sappiamo e speriamo che possa dare un grosso contributo anche a noi nella prossima stagione. Sono veramente felice di iniziare il mio percorso qui, la società è molto ambiziosa e sicuramente sta costruendo una squadra di alto livello fatta da anche tante giovani e quindi sicuramente lavoreremo tanto per toglierci delle belle soddisfazioni e mettere comunque in crisi un po' tutte le squadre. Non solo, Sonia Candi, la giornata ha portato anche all'annuncio dell'istituzione della seconda squadra della Megabox. Era un percorso che era già nell'area che dovevamo iniziare, l'abbiamo iniziato l'anno scorso facendo quello che potevamo fare, quest'anno stiamo rafforzando tutte le nostre idee e mettiamo in piano questo campionato di B2 con una squadra di under. Ora ci focalizziamo sui settori giovanili che comunque per me è un punto importante e mi piacerebbe iniziare ad avere qualche soddisfazione e qualche risultato. Crescita giovanile che si accoda all'ambizione di migliorarsi nella massima serie. È una Megabox più d'attacco e più veloce rispetto a quella della scorsa stagione che è la caratteristica che serve per competere ad alto livello. È una squadra che punta, non lo nascondiamo, a fare meglio della scorsa stagione.